Macho, macho man, no che schifo Ah, oggi andiamo a prendere un po' di schiaffi attorno a Emma, accidenti Hey ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4 Oggi andiamo a prendere un po' di schiaffi attorno a Emma, se prima non ci investono malamente Siamo ovviamente nello Yo-Kai World, perché è l'unico posto dove si può prendere parte attorno a Emma E come disse l'altra volta, il fatto di avere il rango C era sbagliato, infatti ora ci chiedono di avere il rango A Comunque, errore già aggiustato nella traduzione che avrete voi, non ci sarà questo piccolo errorino Ad ogni modo, purtroppo ci può sempre stare una svista ed è un progetto amatoriale E purtroppo le sviste ci sono anche in quelli ufficiali, come Yo-Kai Watch 3, che è pieno di errori Ma tanti, ma davvero tanti Dobbiamo però presentarci a cospetto di un altro... ma scusami, ne ero ancora, devo stare di là Si, voglio iscrivermi, ok? Vai, qua si tiene però Non si tiene... ah, perché di là è la reggia Qua è dove fanno le botte, certo, ha senso Si Oh, wow Guardate tutti quelli Yo-Kai Non curiamoci di loro, ma guarda e passa avanti Cos'è? C'è l'azione a Dante hanno fatto Questi qua già stanno pronti, i nostri amici Io invece voglio vedere che succede qui Insomma, ma c'è tanta gente Sono delle guardie reali di Emma l'antico Ma oggi sono di turno qua Il mio nome è Bluetooth, va bene E il mio nome è... non lo so, è Slim Shady Ok, qua fanno Comunella I panzerottini E tu che ci fai qui? Hi, hi, hi Oh, gli eroi! Master Niada, ma come? Eh, sì, maestro Mew Nome inglese, maledizione Va bene Tu sei maestro Mew, sì Ma non voglio l'autografo Voglio la tua benedizione Ovviamente lui in inglese si chiama Niada Master Niada Perché è Yoda, praticamente Allora, nuvolazzura che dici? Vinceremo per la giustizia e per i sushi Ma io sto con la tempura, eh Sono in cantella, la regina degli eroi Libertà e tempura Libertà e tempura E tempura mi piace, quindi anch'io libertà Ah, loro hanno fatto amicizia con... Qua, con... Come si chiama questo? Aracono V, giusto, giusto, giusto Aracono V Non curatevi di Aracono 2 Vabbè Ah, attenzione però Finalmente si tornano a vedere anche i sigilli Mamma mia Ah, volevo giusto un attimo esplorare i post Per fortuna che l'ho fatto Anche perché se non esploro Che ci vengo a fare qui? Cioè, che gioco a fare? Niente Va bene Possiamo andare allora Direi di parlare con i nostri amici Ma ci rimane l'apertura di sera breve Sono così nervoso Ma devo restare concentrato Forza, andiamo Oggi ci prendiamo degli schiaffi, amici miei Silenzio, per favore Benvenuti alla cerimonia d'apertura del torneo Emma Passo la parola al nostro amato re Emma, l'antico Bello Finalmente è giunto il momento Oggi sarà eletto il nuovo re degli yokai Il vincitore del torneo odierno riceverà il titolo di nuovo re direttamente da me Vi ricordo però che uno scontro leale non si vince solo con la forza bruta Servono comprensione, altruismo e impegno per regnare su yokai world Per cui, cari amici Unite le vostre forze e combattete sportivamente Solo chi riuscirà a superare ogni turno in modo sincero e leale trionferà Bene Dichiaro il torneo ufficialmente aperto Buona fortuna a tutti voi Io vorrei che il gioco arrivasse in Italia solo per sentire Ubaldi doppiare Emma Nient'altro, solo per quello che lo vorrei ma Non arriva Comprensione, altruismo e impegno Quante ciocchezze Il prossimo ora sarò solo e soltanto io Nessuno potrà ostacolarmi Eh, lui è forte lui Non so chi sia mai forte Quando fanno quella risata malefica sono forti Non tutti però i nemici di fine gioco sì Bene, i gironi sono stati sorteggiati Ora si fa sul serio Dovremmo affrontare tre battaglie in fila Senza pausa nel mezzo Wow Non pensavo che fosse così difficile Però Perché gli eroi Vogliono diventare i nuovi Sovrani del mondo yokai Cioè non ha senso Sono eroi proprio perché non vogliono Non regnano sugli altri La cosa buona è che abbiamo Asura Come trasformazione aggiuntiva ora E non vedo l'ora di usarla Benvenuti al torneo Emma Voi dovete essere dettivi yokai È un piacere avervi tra noi Soprattutto in una giornata così importante In ogni caso ora provo a spiegarvi le regole del torneo Nel torneo Emma viene deciso il futuro Degli yokai A breve avrà inizio il giro dell'eliminatorio Che prevede tre battaglie consecutive Vi ricordo che da ora in poi Non vi sarà possibile salvare il gioco O curarvi dopo ogni battaglia Allora siete pronti? No, devo salvare prima! Ah, tra l'altro Piccolo disclaimer Anche se io non lo faccio vedere in video Non vuol dire che io non esplori Al cento per cento la mappa di gioco Lo faccio Però non lo faccio vedere in video Quindi non preoccupatevi Se non vedete tutto nel video Perché esploro veramente tutto Tranne cose che mi tengo Ovviamente per il post game Certo Vi auguro buona fortuna Bocca al lupo, no? Buona fortuna Poi ci massacrano Benvenuti! Eccoci dunque Il primo turno dei gironi di qualificazione Da un lato abbiamo i dettivi Ok Una squadra di umani Molta agguerriti Fado un bel applauso Forza Mentre dall'altro Ecco il team shock termico You are shock Guidato da un guerriero Ha 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 Una squadra di umani Al torneo Emma Questa mi è nuova Ha ha Non possiamo permetterci di perdere subito Andiamoci dentro ragazzi Mera, mera Entrambi i team Sono sul ring Pronti a per cominciare Bene Allora che Prima torno A via inizio Con due zeta Però Perché è rafforzativo Non che fosse scritto Con due zeta Devo specificarlo Se no Ci sono fraintendimenti Dopo Allora Uniquerriero Ci vuoi schiaffi? Ci vuoi Cos'è? Leofuoco Ma è scoppiato? Oh Allora Ma Ma leofuoco È scoppiato Poverino Mi piace Mere in ombra Che abbia fatto Una capoeira Per trasformarsi Grandissimo Oh buono Offri Un po' di sake Pure a noi Un briacone Però che si fa ragazzi? Te ne vai al torneo Nevaria Che vuoi fare? Nevina Dannazione Nevaria Nevaria Nevina e con gli occhiali Nevaria e senza Cervello Metti in moto La tua memoria Su di yokai Forza Che risultato Inaspettato I vincitori Sono i detective yokai Amico mio È ovvio Che i favoriti Non vincono mai Ma non c'è tempo Di festeggiare Il secondo turno Inizierà breve Siamo già pronti Con i pugni Nelle mani Stavolta È il turno Dei prescelti Maximi Guidato da Overnian Occhi chiusi Overnian Apri questi occhi Link Jack Mi piace Rivedermi qui Ragazzi Già Sarei quasi rispiaciuto Se vi sconfiggessimo Ho detto quasi Eh Beh Sarebbe dovuto succedere Prima o poi Maximus Musk Difensore di tutti Sono pronto a farmi valere Come vale lui Entrambi i team Sono sul ring E pronti per cominciare Bene allora Che il secondo turno Abbia inizio Li facciamo male Come abbiamo fatto male Agli yokai di prima Perché io Sarei molto soddisfatto Dal risultato precedente Quindi ora vorrei ripartire Buono buono Bene bene Chi è o no Ah io Ora sono io No Cattivo Cattivo Le fiamme non mi piacciono Anche se è il tipo Fuoco il mio preferito Buono 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 Bravi I miei complimenti Grazie Ha ragione Governo Siete stati in gamba Ottimo Grazie Velenotto Le tue parole Sono di conforto Per me Anima di Rango B Buona Non è che le anime Le uso molto Le sto usando alcune Per un po' di O meglio Dovrei Usarle molto più Di quanto io stai facendo ora Perché servono a potenziare Gli yokai Però più ne recluti Più è meglio Perché puoi trasformare Gli yokai In anime E poi le anime Andranno a potenziare Gli yokai Che hai In squadra E beh non l'ho fatto Quasi con nessuno Se non con quelli Che ora stanno In panchina a marcire Nel Nel medaglio Ma quindi Eh Al termine di uno scontro Superbo Sono dettivi yokai A spuntarla Ma insomma Un po' di bolini Eh Chi sarà dei loro avversari Lo scopriremo subito Sicuramente O gli eroi O Ecco Eccoli qua Le guardie infernali Guidate dal terribile Nerorco Temibile Siete forti Lo ammetto Ma la vostra sera di vittoria Finirà qua Vi faremo affettine Vi sosteneremo Per le feste umani Saremmo ne a vincere il torneo E non possono tutti quanti Avere la voce Pesante Se no Che facciamo Entrambi i team Sono sul ring E pronti per cominciare Bene allora Che il turno Finale abbia inizio E' bello che il simbolo Dell'audacia Sia il simbolo Che fa da sfondo Al torneo Davvero bello Non a caso L'audacia E' il team migliore E' la tribù migliore Tanto che ci siamo Mi permetto eh Grazie Ma Pensavo che ci fosse Uno nascosto Da avere in ombra Dopo tre latte L'ultimo respiro Sorte di ora Ah il presentatore Non me l'avevo visto Congratulazioni ragazzi Ah va bene Sì ma Così facile Devi essere di Rango A Mi raccomando Spera grande Mi piacerebbe la Mega Perché è la Mega O quella Sacra La Sacra si compra Alla Alla A Gachaland Ed è Eccezionale Non l'ho ancora presa Ma la userò I miei complimenti ragazzi I miei complimenti ragazzi Sarei stati sensazionali Grazie Perla Ricordiamoci però Che non abbiamo ancora vinto Finora sta filando Tutto liscio Ma non dimenticatevi Il nostro scopo Il torneo è quasi a metà E ancora non c'è traccia Di mortalvolpe Mi chiedo come mai Non si sia ancora Fatta vedere E se ci avesse tratti qui Con l'inganno Ne dubito Possiamo sempre chiedere In giro però Forse qualcuno L'ha vista Ci ho già provato io Ma in vano Nessuno ha ceduto Le mie minacce Principessa Minacce Come sarebbe a dire Arfos Dovresti vergognarti Non ci credo Ancora voi Ma che diamine Ci fate qui È mortalvolpe Quella è mortalvolpe Abbiamo trovato finalmente Perché sei venuto A yokai world Non dirmi Che è sorvito Altre anime Rispondi Chi è il tuo capo Forza Sputerraspo Mi dispiace Ma non posso Ci si vede Bocciosi Perché Farti notare Se poi te ne vuoi andare Che problemi hai Come dobbiamo inseguirla Per davvero E potrebbe essere Diventata un umano Ho capito Ma Che poi No Anche fosse Travestirsi da umano Sarebbe la scelta Peggiore da fare Nello yokai World Amico mio Perché ti travesti Da umano La titolare Del negozio Volpe Che ci vuoi fare Che succede Allora Voi umano Siete così fastidiosi E cosa Volete ancora Silenzio Dici chi è il tuo capo Ora Ma non posso Se ve lo dicessi Me la farebbe pagare Cara Ti diamo i soldi Dai Vorrei dire Che lo scopriremo Da soli Andando avanti Nel torneo Era quello Il piano Fin dall'inizio Veramente Ma comunque Aspetta Che cosa hai detto Voi state Partecipando Dal torneo Allora le cose sono due O sei scema o sei cretina No Come è potuto accadere Il mio corpo Il mio bellissimo corpo Con quella bocca davanti avrai seriamente paura Ad avvicinarmi a te Incredibile morta la colpa è diventata lei stessa un'anima Uh che bello Un'altra ficca naso Che non sa mantenere un segreto Per favore capo Prometto che non commetterò di nuovo un simile errore Ancora ti ostino a pregarmi in ginocchio Sei patetica Aspetta un attimo Quindi sei tu il capo di mortal volpe? Esatto Jack E' uno di ok che ha rubato l'anima di tua madre Oh no Guarda che tipo Certo però che quelle sopracciglia non ti rendono giustizia Cioè sono fighe ma cavolo Tagliale Non avete ancora scoperto il mio nome? E voi sareste dei detective? Sono Shin Shin Ovvero colui che trionferà sul torneo Nel torneo Shin Sei straduato ad organizzare tutto? Dunque ciò che ho sentito era vero Abbiamo degli o altri partecipanti Non ci ha visto probabilmente Siamo qui solo per sconfiggere te Restituisci subito gli anime che hai rubato Pensi che una stupida anima valga di più del trono che mi spetta Che intendi dire? Voi umani sprecate la vostra vita Non siete altro che gente inutile Eh grazie Vi faccio la di uno che è immortale Che cosa hai detto? Ripetelo se hai scoraggio avanti Non ho intenzione di sprecare altro tempo con voi Ci vediamo in finale Vi assicuro già adesso che schiaccerò ogni vostra singola speranza di vittoria Com'è possibile che un individuo del genere aspira a diventare re? Nathan non guarda molti film Hai ragione Da come parla si considera già il nuovo sovrano di Yo-Kai World Shin Non la passerai liscia Ti sconfiggeremo Se combatteremo tutti insieme riusciremo a vincere Forza Andiamo Allora andiamo amici Il video termina qui Vi ringrazio per averlo seguito Nel prossimo ovviamente Continueremo le lotte di Yo-Kai Watch qua In descrizione trovate tutti quanti i link utili E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video Bye bye